Tanto tono che piove che un rinvio della seduta di consiglio regionale in programma domani con all'ordine del giorno il rinvio dell'ufficio di presidenza fosse venienza tutt'altro che improbabile era apparso chiarissimo già da qualche tempo prima lo sforamento di alcuni giorni rispetto al termine preventivato del 4 agosto per la convocazione dei lavori che di fatto avrebbe portato i consiglieri in aula nella settimana che precede il 4 agosto, quantomeno inusuale per la politica non solo calabrese poi l'accavallarsi delle questioni e delle tensioni sino alla convocazione praticamente della conferenza dei capigruppo che ieri ha formalizzato il rinvio proposto dal capogruppo del PD Sebi Romeo, posizione che ha trovato il consenso degli altri gruppi di maggioranza se ne parlerà l'11 settembre ufficio di presidenza e il 12 settembre emergenza migranti così come richiesto dalla maggioranza la decisione, spiega una secca nota di Palazzo Campanella, è stata assunta a maggioranza della conferenza ai sensi dell'articolo 38 del regolamento interno col voto contrario di Casa della Libertà, Forza Italia e Gruppo Misto Intanto c'è l'ira delle opposizioni, consideriamo sconcertante la decisione dei gruppi di maggioranza di cancellare la convocazione della seduta del Consiglio regionale, già decisa a causa dei contrasti interni al centro-sinistra incapace, secondo le opposizioni, di garantire le elezioni del nuovo ufficio di presidenza della Massima Sisse della Calabria il cui mandato, peraltro, era già abbondantemente scaduto dallo scorso giugno hanno scritto, in questa nota, i capigruppo Alessandro Nicolò di Forza Italia Francesco Cannizzaro, Casa delle Libertà e Fausto Orsomarzo del gruppo Misto La maggioranza alla Regione, dilaniata da contrasti, non riesce più neppure ad assicurare l'agibilità istituzionale e sfuggendo alle proprie precise responsabilità, finisce col paralizzare anche l'Assemblea regionale con questa decisione, ancora ribadiscono dalle opposizioni, decisioni tra l'altro senza precedenti il centro-sinistra si assume interamente ogni responsabilità si conferma dunque il quadro desolante della crisi politica del principale partito della maggioranza ovvero il Partito Democratico